La vittoria del progetto Talking Hands Con la vittoria del progetto Talking Hands, un guanto in grado di tradurre linguaggio e disegni in espressioni vocali, Maker Faire, ormai tradizionale appuntamento annuale dell'innovazione e la tecnologia, ha probabilmente celebrato il suo momento più significativo. L'edizione 2016, venutasi nei padiglioni della nuova Fiera di Roma tra venerdì 14 e domenica 16 ottobre, ha registrato un grande successo sotto tutti i profili. Più di 100.000 visitatori, decine di espositori e centinaia di progetti sui temi dell'innovazione, ha testimonianza che l'artigianato tecnologico vive un momento di grande espansione culturale in Italia.